ariete mente e cuore attivi in questo periodo vi conducono lontano le relazioni hanno connotati affettivi e sono stimolanti mentre l'amore riserva momenti appassionati evitate di imporre le vostre idee forzatamente foro nonostante la fase astrale sia meno propensa a concedervi favori oggi riuscite a guadagnare un buon equilibrio interiore che vi consente di affrontare con maggior lucidità e serenità fatti e incontri gemelli la luna nemica potrebbe suscitare una irrequietudine nervosa che vi rende instabili emotivamente cercate di frenare la vostra loquace irriverenza e utilizzate un'arte più diplomatica per convincere qualcuno cancro una buona giornata vi attende per plasmare un andamento piacevole che vi restituisce emozioni positive e buon umore sono in agguato ancora fatiche da sostenere ma adesso siete più consapevoli e forti leone le potenzialità del vostro cielo sono molte sia in ambito sentimentale che nelle relazioni nelle questioni di lavoro ma dovete frenare l'impetuoso contrasto di marte opposto che vi fa vivere forse con troppo fervore vergine oggi la luna si pone in angolazione dissonante e scalfisce la vostra anima emotiva orientandovi a sensazioni cupe e illusorie stabilizzatevi concentrandovi su questioni pratiche che allontanino fantasie controproducenti bilancia in questo periodo non mancano cambiamenti e problematiche da portare avanti ma siate prevalentemente intrini a vivere con più entusiasmo e dedicare a voi stessi spazi di piacere e un pizzico di spensieratezza scorpione oggi la luna favorevole vi salva dai turbamenti e vi conduce su ritmi meno aggressivi creando una sosta nel vostro attuale percorso spesso contrastato e mutevole agganciatevi a qualche sogno importante sagittario giornata sotto tono che vi illude e poi vi delude ma sono passaggi brevi e non avete da lamentarvi di questo periodo che vi insi la voglia di attivarvi per conquistare un amore o un obiettivo che vi sta a cuore capricorno in una fase abbastanza stabile nella sua positiva complessità generale state attraversando un momento di stanchezza che vi invita a dedicare più tempo a voi stessi a rallentare i ritmi e riordinare idee e risorse acquario marte in transito nel segno per lungo tempo vi sollecita e vi imponde energie attive ma spesso vi porta verso una irrepieta quotidianità che non riuscite a controllare soprattutto nei rapporti con chi amate pesci la luna oggi è di passaggio nel segno e illumina la parte emozionale la creatività i sentimenti un dolce movimento che allieta la giornata e vi lascia impigliati nella rete amorosa con vostro piacere buone scelle buone scelle